ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di proviamo cose nuove primo video diciamo sì primo video dopo diciamo santo stefano e natale oggi andrò provando la prova la tiger magic forest magic forest spero di avere aspettate pure visto che la stardust non mi ha tanto sorpreso nanzi proprio queste bibite in bottiglia ancora non è che abbiano tanto sorpreso col gusto a parte forse leggermente la bibita qua di harry potter con la pozza della sirena comunque non so se già il video uscito o deve essere programmazione qui la scadenza c'è se non si vede appena però sembra che sia scaduta scada scaduta nel 2023 ma a ottobre non si commende tanto scritta qua molto sbiadita adesso con cui vi faccio vedere questa di qua la particolarità è che accia anche questa cosa si è un pochettino da perdersi visto che rimasta abbastanza ferma ecco adesso si nota abbastanza l'avendo fatto a muovere un bel po si è rimasta molto depositata nel fondo questa di qua l'ho presa in delle macchinette se non sbaglio a cinisi o a terasini ma mi pare che non ho più messa purtroppo è un peccato che neanche c'era pure dal campo ma non proprio rimossa sia da l'acqua sia d'acqua in grattasi che cinesi però un peccato perciò un bello bisogno di fabbese è buonissima ripeto non so che esistono altre leggi di rinchi in bottiglia della tiger però a parte queste due non trovate altre fino adesso adesso come vero in guardato mi si sta tirando forse la voce andiamo a vedere nel dettaglio la bottiglia ok rieccomi qui abbiamo la nostra tagge stardust qui non vedete più nulla perché c'è la stufa ed è finito proprio il gas quindi settimana prossima quindi dopo all'anno nuovo o forse anche già sabato potreste già rivederla di una messa qui visto che ho vado a mio padre essendo che anche fammi diciamo aiutare per andare a riempire e dove andare a ripieno la bomba o cambiare la bombola per quanto riguarda la stufa qui abbiamo la nostra bottiglia di tagge stardust bibita verde con l'etichetta anche verde condizione della tigre che diciamo leggermente riflette l'etichetta scritta magic forest tiger energy drink altre particolari abbiamo un adesivo con le dimensioni 300 ml di bibita taglio di fuoco bevanda energetica a casa dalla frutta a gusto al gusto però se tipo tagliato forse qua sotto ha mojito qual gusto di mojito con aggiunta di caffeina e vitamine con zuccheri come avessero a gusto di mojito questa bibita ecco la diciamo un po ricorda il mojito ma aspetta un gusto un po più di palamera qualcosa del genere quanto pare di mojito tappo molto carino con il disegno della tigre twist off che a me non si potrebbe poter aprire con la mano perché mi rompe le mani la scadenza facciogli notare scritta l'avevo intravista un attimo qua c'è un 10 e poi c'è un 20 ma l'altro è incomprensibile c'è sempre spese il 20 o se si rimosso completamente dittura forse un altro numero la stampa si rimuove faccio c'è si sta rimuovendo tutta c'è non è stampato molto bene neanche lo 0 si vede più però c'è scritto il boom 23 qualcosa del genere comunque adesso chiaramente cambierà in quadratura e chiaramente la andiamo a provare la vado a provare chiaramente ok tra i video programmati non so se già sono usciti tutti comunque quelli in questione questa è la quarta bibita in bottiglia che porto proprio in bottiglia di vetro perché già ho portato questa seconda tiger e poi ho portato la bibita da burro birra e cos'è stato questo rumore non lo so è la possibilità di la sirena stop poi cercherò in qualche modo di sistemare il tappo perché chiaramente questa bottiglia io chiaramente la collezione piena questa bottiglia poi andando a dare al nipote del mio ex collega dove è una correddice di annanza alla villa ex reddito non sono più correddito adesso ormai lavoro diciamo ok si stanno andando a versare e sempre c'entra da mare devo bella tutta chiaramente perché non è di mezzo litro corrispondendo circa un bicchiere e mezzo circa profattiva dall'odore non ho fatta che non ho fatto io ho sbagliato mi ricordo la menta veramente mi ricorda la menta forse c'è un po diventa non mi sembra tanto da stata pensavo peggio c'è la mente infatti c'è il gusto c'è menta si è semplicemente mojito nella mente vediamo se c'è scritto menta allora succo di mela non comprende succo di mela ci manco mojito c'è scritto sinceramente c'è la mela si sente ma leggera proprio leggera però sento lamenta anche devo dirvi che non è male questa polandola varie chiaramente circola veramente non so se si vede dal video di come fa c'è veramente molto bella starosa bravamente buona tutto è bilanciato molto bene sento sia leggermente la mela si sente non so perché la menta ora mojito non so se si fa in questo modo con la mela però se è proprio mojito è gasata veramente poco forse perché troppese già da un po di tempo quindi ha perso fosse il gas o fosse già proprio di così che può gasata devo dire ho trovato una bibita veramente ottima non ho visto peculiarità sinceramente quindi conclusioni sono soddisfatto target di link magiche forest foto finale per me è un 10 su 10 più che assicurato perché non vedo nessuna peculia di alcune pecche nulla tutto per giù di modo omogeneo è gasata diciamo appunto è giusto che non dà nessun passito in bocca quindi la tua veramente ottima come bibita se la trovate la consiglio di provarla veramente una ottima bibita va bene se questo video è piaciuto mi lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao